Sono entrato negli anni 74 anni e li ho salutati a 14. Sono stati gli anni delle scuole elementari, delle scuole medie, gli anni dei sogni, gli anni dell'affetto dei nonni, ma sono stati anche gli anni segnati dalla paura degli anni di piombo. Quella pagina grigia dell'Italia per fortuna dimenticata, ma sono stati anche gli anni in cui sulla televisione in bianco e nero ho visto i primi mondiali di calcio. Erano quelli del 74 a Monaco di Baviera e ricordo il calcio spumeggiante del Brasile di Rivelino, ma soprattutto il calcio totale dell'Olanda di Johan Cruyff che è stato il più grande campione a cui ho visto dare un calcio al pallone.